Era già tutto scritto. Prima che succedesse. Potevamo voltarci indietro e seguire le briciole sul sentiero che portava alla violenza. Lo vedevamo ovunque. E il perdono fa parte della nostra fede. Saremo costretti a lasciare la colonia se non perdoniamo quegli uomini. Nessuna di voi vuole sentire ragioni. Sappiamo che non ci siamo inventate queste aggressioni. Sappiamo che siamo doloranti e terrorizzate. Non possiamo più sopportare altre violenze. Siamo state trattate come animali. Forse dovremmo rispondere come animali. Come ti sentiresti se per tutta la tua vita non fosse mai importato ciò che pensavi? Quando ci saremo liberate, dovremo domandare a noi stesse chi siamo. Grazie.